Ciao a tutti e benvenuti su MyFootballJersey. Io sono Stefano e oggi indosso la maglia del Bayer per la stagione 21-22, quella da trasferta, la seconda maglia. Questa che vedete è la versione player o authentic, la versione esattamente indossata dai calciatori, in tutto e per tutto identica a quella che indossano loro. In questa versione non ci sono ad esempio cuciture per non irritare la pelle dei calciatori. Come vedete la maglia del Bayer è tutta nera, ha questo motivo a puntini bianchi e le rifiniture sono tutte in oro. Lo stemma del Bayer, il logo dell'Adidas, lo sponsor, le strisce dell'Adidas, le rifiniture interne della maglia. Nel complesso è veramente una maglia, secondo me, bellissima. Nella mia personalissima classifica questa prende cinque stelle. Io già adoro le maglie nere, poi rifinite in oro secondo me sono bellissime. Ora vi lascio alla restante parte del video in cui potrete vedere tutti i dettagli che compongono la maglia. Ci vediamo alla fine. Ciao! Come vi dicevo nella versione player, per aumentare il comfort dei calciatori, lo stemma del Bayer e lo stemma dell'Adidas non sono ricamati ma bensì sono termosaldati. la trama della maglia, se vogliamo, è abbastanza semplice. Come sempre nelle linee player Adidas usa la tecnologia Eat Ready. Molto bello, secondo me anche il fascione interno color oro. Sul colletto e sulle maniche è presente questa lavorazione molto elegante. Nella versione player, sempre per ragioni di comfort, anche le tre strisce adidas sono termosaldate. Questa maglia è ispirata al bambino di Monaco e da qui il simbolo che vedete sopra il nome della squadra. Spero che il video vi sia piaciuto e spero che possiate regalarci un like e iscrivervi al canale per essere aggiornati per i prossimi appuntamenti. Ora vi lascio con la sezione dedicata alle misure in cui potrete vedere la vestibilità della maglia e le misure esattamente che ha. Ciao alla prossima! Io sono alto un metro settantacinque e peso 70 kg circa e questa è una taglia large della versione player version. Vi ricordo che in questa versione si consiglia sempre una taglia in più. Grazie a tutti!